La più grande isola al centro della città di Napoli, un'area monumentale di 62 ettari sicura ed innovativa in un format che consente di vivere tempo libero, sport, cultura e musica. È la mostra d'oltremare, il centro fieristico e congressuale più importante del sud Italia e dal 10 maggio apre finalmente i cancelli al pubblico, offrendo una serie di attività che la rendono area polifunzionale. A seguito della pubblicazione del bando Isola delle Passioni, la mostra ha ricevuto oltre 70 proposte di progetti realizzabili nei suoi spazi ed economicamente autosostenibili per avviare una programmazione annuale di eventi e manifestazioni che permetteranno l'apertura continua del parco al pubblico al costo di un euro, comprensivo dei bambini. Certamente è una sfida straordinariamente importante, il sindaco ricordava che l'annuncio addirittura di Valenzio, passati quasi 40 anni credo, è una macchina complessa perché parliamo di un monumento estremamente importante, estremamente delicato, estremamente prezioso, parliamo di una società che lo gestisce, una società indebitata, fortemente indebitata e che non gode di contributi. Però cominciamo a utilizzare tutto lo spazio utilizzando risorse della città nel senso di competenze, capacità, entusiasmo e così via e avremo, come io auspico, una grande risposta di pubblico perché stiamo restituendo a cittadini, turisti, uno spazio veramente importante in una città che non ha molti spazi. Ci sarà teatro, ci sarà cinema, ci sarà musica dal vivo, ci saranno cose per i bambini, tutto questo ovviamente integrato anche con Zoi innanzitutto e successivamente con l'Enellandia, ci sarà cultura, ci saranno gli happy hour, noi speriamo ci siano più attività proprio per incubare e favorire nuove proposte alla città. Un modello di bene pubblico partecipato ed integrato che diventa il centro di tante attività che altrimenti non avrebbero luoghi dove essere realizzate. Associazioni d'aziende qui potranno sviluppare manifestazioni ed eventi, attività che diventano offerte di qualità per cittadini e turisti divise in cinque macro aree, arte e cultura, intrattenimento, musica, sport benessere e gusto. Oltre alle attività consolidate come il Parco Zole dell'Andia, in estate ripartono anche gli spettacoli all'Arena Flegrea e quello della Fontana delle Sedra, con acqua, luci e musica. Dal lunedì al giovedì fino al tramonto, il fine settimana anche la sera, un grande obiettivo di cui si è parlato per decenni e noi lo realizziamo. In un momento difficile, senza soldi, siamo convinti che la città risponderà alla grande, in modo da dare un polmone verde innanzitutto ai cittadini di fuori grotta e dell'area occidentale e dell'area Flegrea, ma direi a tutta la città, a tutto il paese, a tutti i turisti che vengono nella nostra città. Stiamo avendo anche manifestazioni di interesse importanti, idee, partiamo soprattutto dai giovani, dalla cultura, dal teatro, dalla musica, dall'economia, dalle tante energie vitali della nostra città che potranno lì esporre, potranno fare economia e tutti i cittadini si dovranno sentire partecipi di questa sfida che rende la mostra d'oltremare una grande proprietà collettiva democratica.